Salve a tutti ragazzi, benvenuti ai miei iscritti, benvenuti, bentornati su Gioveca di Spò, io sono Giovi Spò Questa è la seconda episodio di come fare crediti, in questo episodio vedrete il mio miglior profitto su FUT15, almeno per ora Sto vedendo ho acquistato questo Gonzales argento, raro, a 2000 crediti Avevo visto che il suo prezzo stava sui 3003, 3002 Dunque io l'ho acquistato per 2000 crediti direttamente al compra ora E questo è stato il mio miglior profitto, e non parlo di tanti giocatori ma di un solo giocatore Vedete 2000 crediti, poi lo metto sul mercato per 3000 crediti e compro ora per un'ora Ora qua metto 6, ma poi metto un'ora, dicendo di rimetterlo solamente col prezzo iniziale E non lo vendo entro un'ora, ma il giorno dopo lo rivendo, e ora vedrete a quanto l'ho rimenduto sempre con l'asta Allora ragazzi, come state ben vedendo, Gonzales l'ho venduto Non vi dico subito a quanto, diciamo che ci ho fatto un buon guadagno, il mio miglior guadagno Su foot15 almeno per ora Allora, il mio consiglio da darvi è quello di seguire un giocatore Naturalmente se non avete i crediti per poterlo acquistare, lasciate perdere Come ben vedete qua, vabbè vi faccio vedere questi qua che ho acquistato Questi tre li ho acquistati a 300, ho rivenduto 350-400 Poco guadagno, ma vi farò vedere in seguito che sarà un guadagno certo Dunque è arrivato il momento di farvi vedere il guadagno che ho fatto con un singolo giocatore Acquistato, ve lo ricordo, acquistato per 2000 credit a compra ora sculata Una sculata incredibile, erano passate appena 10 minuti ed era sera Ecco perché, ma la sera tardi, dopo le 11 e mezza Quindi il mio consiglio è di fare compravendita se avete voglia Naturalmente dopo le 11 e mezza, oppure la mattina presto, verso le 8 circa, vabbè Dunque è arrivato il momento di farvi vedere quanto l'ho venduto Ebbene, l'ho venduto a 7300 crediti Acquistato per 2000 crediti col compra ora Ora vi faccio vedere quanto è stato il mio guadagno Ma è stata una sculata enorme Perché ho visto che due persone, mi sa, uno o due persone ci avevano fatto un price fixing E avevano alzato il suo prezzo alle stelle su 20.000 crediti Poi c'era un altro a 9.900 Quindi, e poi c'era anche a 8.000 Quindi, è stata una botta di culo E quindi è stato anche il mio guadagno Vedete, 26.935 crediti Togliamo i 2.000 crediti Sono 4.935 crediti In sostanza quasi 5.000 crediti di guadagno con un solo giocatore Dunque, se questo episodio breve ma intenso Spero vi sia piaciuto Lasciate un bel pollice all'insù Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti Arriviamo a meno 40 mi piace per questo super guadagno Se volete altri consigli, commentate Vi risponderò Dunque, condividete questo video E dunque, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti Qui è Giovis Povi Salute, vi ringrazio E ci vediamo alla prossima con un nuovo video Ciao e alla prossima